eccoci in diretta su rtm da piazza mediterranea marina di modica buonasera a tutti allora ragazzi per me è un onore per mio un onore finalmente non posso vederli solamente tramite le stories di instagram fabrizio e federico istanzoni buonasera buonasera a tutti che bello dalla parte del mare di modica eh marina di modica respiriamo il mare questa sera respiriamo l'aria quella è un'altra è una bella canzone però complimenti bravo sei preparato sei la cosa bella è uscire fuori dalle storie di instagram è vero da dai video su facebook e venire qui in piazza a parlare insomma e vedere tutta questa bella gente che si è riunita qui questa sera solo per voi ragazzi solo per voi fantastico questo è un onore per noi un onore veramente veramente bello e non è la prima volta modica giusto no è la seconda in realtà in poco tempo perché ottobre dell'anno scorso siamo stati qui bellissimi ricordi nella parte alta in realtà di modica che ci hanno spiegato come funziona modica dove si mangia bene torniamo sempre e poi innamorati del cioccolato vabbè questo è un classico che noi uno quando va a modica il cioccolato però dico è un prodotto che si esporta ovunque che ce l'abbiamo lo è vero e lo utilizziamo e ce ne pantiamo anzi da siciliani benissimo quindi questa sera sul palco del modica summer fest yes e carichi prontissimi carichissimi torniamo sul palco dopo il insomma il periodo del covid che ci ha un attimo destabilizzati e sarà un'emozione importante perché appunto si ritorna no assolutamente non vediamo l'ora dopo mesi e mesi non vediamo l'ora non vediamo l'ora ragazzi non siamo a mondello quindi eh beh sì buongiorno la maria di modica buongiorno la maria di modica e ne parleremo ne parleremo anche durante l'intervento di questa sera insomma è una cosa che c'è ci dobbiamo convivere e niente siamo qui e lotteremo e combatteremo bene per bene seguendo le 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 istruzioni no c'era la canzone che faceva la sera le istruzioni per muovere le manzoni la serata karaoke va bene oggi è ispirato particolarmente ispirato c'è Federico ispirato incredibile serata karaoke serata no non è bene non è bene non sarà una serata karaoke ok allora facciamo un saluto agli ascoltatori di rtm assolutamente salutiamo tutti gli ascoltatori di rtm noi siamo contentissimi insomma di questo intervento pre spettacolo e adesso niente adesso saliamo sul palco e spacchiamo tutto dai ciao ragazzi avete pensato mai di fare radio ragazzi ma sai non lo so potrebbe vediamo domani abbiamo chiedo per un amico chiedi per un amico va bene va bene grazie ragazzi grazie mille grazie a voi ciao ciao